Radio Mania, musicomio, se non sono matti non ce li vogliamo, io sono qui con il mio caro amico Manuele Mottarelli, ciao Lelez, DJ, giusto? Sì, giusto, buonasera. Allora, ti scrivi la serata del venerdì del San Salvador? Beh, è una serata aperta a tutti, con gente d'età differente, proponiamo vari tipi musicali, dal 70 fino alla musica più attuale, dance. Bello un giacca con la camicia, sei bellissimo. Beh, grazie. Allora, senti una cosa, fai un annuncio a questi giovani, tu da DJ, che la sera escono, non per andare a divertirsi? Io dico sempre a tutti quanti che l'importante è divertirsi, ma sempre con la testa sulle spalle, qualunque cosa si faccia, sempre con la testa sulle spalle. Torriamo, tu sei accompagnato da Palasca, dunque suonati insieme qua al San Salvador, giusto? Sì, socio di vita e socio di consolo. E socio pure come amici, proprio. Certo, certo. Esatto. Fammi un saluto a tutti gli ascoltatori del Musicomio e di Radiomania. Un saluto al Musicomio e a Radiomania. Da Emanuele Bottarelli. Ok, Musicomio, se non sono matti... Non ce li vogliamo. Ciao a tutti. Ciao.